I 390 milioni che potevamo perdere sono stati tutti messi in salvo, non c'è una sola opera che il governo ha tagliato. Le opere del masterplan sono state salvate dal definanziamento deciso dal governo e i fondi europei saranno spesi con una premialità e una finestra temporale più lunga di almeno due anni. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio risponde così alle critiche del Partito Democratico rispetto alla riprogrammazione del masterplan nata per finanziare i provvedimenti regionali per l'emergenza Covid. I soldi che sarebbero stati fermi oggi e non era possibile spendere perché riguardavano opere che non hanno ancora le progettazioni esecutive pronte per andare in appalto e per andare in gara, vengono presi e spesi subito per dare fondi bonus alle famiglie, alle imprese, al fondo perduto, agli affitti, al ristoro dei danni subiti dal Covid. Le opere nel frattempo vanno avanti lo stesso perché gli si lasciano i soldi necessari a fare le progettazioni che mancano con l'accordo che il governo rifinanzia nel prossimo ciclo di programmazione e quindi quando avranno finito di fare le progettazioni e saranno pronte per andare a gara ci saranno i soldi per fare le gare e per aprire i cantieri. Il presidente della regione poi contrattacca i rappresentanti del PD definendoli asini saccenti. Se questi asini saccenti del Partito Democratico vogliono un'altra regola però la devono raccontare, devono dire agli abruzzesi che non è vero che c'è la straordinaria opportunità di 300 milioni, non c'è niente perché il governo non ci dà un soldo, ci permette solo di usare questi già destinati, rimodulandoli in questa maniera, ce li rifonde il prossimo anno rimettendo una parte di questi fondi sulla nuovo ciclo di programmazione, ma nell'immediato non ci dava niente.